che meraviglia ragazzi ci sono canzoni che rimangono nel tempo in un lungo tempo in un lungo tempo musicale che poi grazie alle radio come questa canzone appunto ben dice circolano vanno in giro vanno nei nostri cuori e così dalla voce degli artisti ci riempono anche le giornate e questa canzone che abbiamo ascoltato che insomma è una canzone di qualche anno fa ma sempre molto molto attuale di un cantante cantautore autore bravissimo che conosciamo per i suoi successi ma soprattutto perché sa resistere nel tempo e lui è Marco Ferradini ciao Marco ciao ciao a tutti ciao che gioia di averti con noi ben arrivato a radio centoquattro eh grazie grazie no tutto bene tutto bene mi sto eh organizzando perché in questi giorni ci sono molte cose da fare teletone poi concerti e quindi chiudiamo l'anno in bellezza so che sei veramente molto molto attivo poi peraltro eh adesso vorrei spoilerare tutto subito dai diciamolo diciamolo così eh facciamo un gancio che ci sto ascoltando tu domani sarai a Savona per un concerto quindi io con te vorrei un po' ehm ripercorrere la tua lunghissima lunghissima carriera un'esperienza incredibile peraltro tu sei autore di tantissime canzoni belle adesso abbiamo sentito lupo solitario che DJ che appunto è dedicata a noi che facciamo radio mi hai scritto tanti successi forse e correggimi se sbaglio uno dei tuoi più grandi successi più apprezzati successi e anche discussi una canzone divisiva sicuramente Teorema beh certo sì quella è sono conosciuto essenzialmente per Teorema canzone del millenovecentottantuno che è diventata un un cult per tutte le radio infatti la canzone che volete appena ascoltato lupo solitario DJ è una canzone che ho scritto dopo il successo di Teorema nel millenovecentottantatre e l'avevo dedicata a tutte le radio dell'epoca perché mi avevano dato una grosso contributo da raggiungere il successo ma Marco visto che tiri fuori questo argomento delle radio tu lo conosci molto bene perché una volta le radio erano diverse che che impressione ne hai nel corso del tempo come è cambiata visto da artista quindi non visto da da detto ai lavori ma allora le radio in un tempo erano dei giocattoli nel senso che c'era molto spontaneismo molto libertà molta incoscienza e molto pionierismo no cioè quando uno si butta in una cosa e c'è tutto da inventare ecco la cosa bella quando tutto da inventare perché ognuno dà il meglio di sé nel cercare di portare a casa delle novità di creare delle cose poi quando tutto è inventato poi arrivano magari quelli che mettono a posto tutto no adesso si fa così si fa così i codici no e i codici quando arrivano i codici quando arriva ecco li finisce un po tutto se vuoi no cioè tutto questo fermento questo piacere questa questa anarchia creativa finisce e si diventa tutti quanti scatolati dentro degli schemi che ad esempio adesso le radio non si fanno più il compito ad una volta quello di di aiutare i giovani a farsi ascoltare perché pretendono i pezzi già di successo noi devo dire sai Marco che qui nel nostro piccolo ci proviamo però è anche vera una cosa che forse un tempo non c'era l'autoproduzione e quindi era un pochino più difficile e le radio aiutavano più dovevano andare a scovarsi i successi adesso c'è guarda dicevo l'altro giorno mi sembra ventimila uscite ogni settimana su spotify una cosa veramente incredibile quindi tu forse ti sei goduto il periodo anche più bello è possibile assolutamente sì c'è il periodo più bello dove c'era facciamo tutti erano appunto dei pionieri dei pazzi che costruiamo eh ognuno costruiva la propria musica il proprio il proprio mondo la propria vita proprio successo un grande entusiasmo e con grande incertezza eh però c'era spazio per tutti e poi naturalmente la 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 questa massificazione tutti sono arrivati adesso fare musica una volta eri un artigiano esatto che costruiva piano piano la tua musica studiavi la chitarra lo strumento per diventare anche bravo no adesso non si fa più questo adesso c'è questa benedetta maledetta macchina che si chiama computer che ha già tutto pronto praticamente allora i suoni sono già perfetti noi abbiamo creato tutto non c'era niente abbiamo creato tutto e avevamo molto valore i tuoi album scusa ti ho interrotto ma hai toccato un argomento veramente interessante e i tuoi album sono suonati da musicisti veri lo so che qualcuno dirà ma cosa stai dicendo Francesca sei fuori di testa no no facciamo questa distinzione ragazzi perché è bella la creatività ma Marco Ferradini innanzitutto a parte che ha un'esperienza incredibile anche di corista e ancora oggi poi e sei stato di corista anche per patti bravo e tantissime persone tu sei una persona molto umile che ha veramente fatto la gavetta la gavetta non sei passato dalla cameretta italia ma tu bazzicavi le cantine esatto e quella è stata la tua gavetta sei fatto il corista sei stato la voce di UFO robot ragazzi Marco Ferradini cioè ma le vogliamo dire queste cose vogliamo veramente rimettere un attimo le carte al loro posto e diciamo che ho fatto tante cose ho anche tanti anni in questi anni mi sono divertito e ho avuto la grande fortuna di fare musica e di vivere di musica quindi mi ritengo estremamente fortunato anche perché io ho rischiato su me stesso investito su me stesso e ho trovato delle persone che a sua volta hanno investito su di me e anche persone che hanno creduto nelle tue canzoni tornando su teorema qual è stata la tua reazione quando mina ha deciso di cantare teorema beh è grandioso bellissimo mina mina ti dicono mina canterà una tua canzone eh sì eh sì una grande dimmi che cosa hai provato dai se ti ricordi quel momento certo una grande emozione mi ricordo che mi telefonò massimiliano pani e mi disse ma Marco guarda che mia mamma vuole fare teorema che bello sono felicissimo naturalmente sono le grandi soddisfazioni no quelle soddisfazioni che non ti aspetti che poi ti rendi conto che a distanza di tempo qualcuno ha pensato a te qualcuno ti apprezza anche è bellissimo la stessa cosa è successa quando Aldo e Giovanni e Giacomo hanno deciso di utilizzare teorema per il loro film che mi si sono felice esatto non mi aspettavo fra l'altro hanno fatto un lavoro bellissimo hanno 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 perché loro sono menti molto bravi molto raffinati anche quindi hanno utilizzato questa canzone non in modo volgare ma in modo molto molto godibile e pulito mi è piaciuto molto assolutamente sì una canzone teorema che io l'amo e non lo dico perché stiamo chiacchierando io e te Marco ma perché è stata definita una canzone sessista ma è la roba fa questa roba mi fa arrabbiare perché non è assolutamente così anzi chi ascolta bene il testo io lo so memoria ma ce l'ho anche qui davanti poi essendo una cantante me la sono anche cantata sta canzone però è vero che praticamente sono un dialogo tra due uomini un uomo magari anche un po' scoraggiato da come è andata la sua storia d'amore dice vedi se l'avessi trattata male sarebbe andata meglio lei si sarebbe innamorata di me e l'altro poi alla fine dice ma no ma guarda che non è così se tu lasci aperta la porta del tuo cuore non c'è bisogno di trattare male nessuno quindi alla fine si conclude molto molto bene quindi io l'appoggio e non si dica che è una canzone sessista bisogna ascoltare bene il testo come ha fatto mina che qualcosa di musica ne sa e ha scelto di cantarla quindi adesso l'ascoltiamo un attimo la facciamo ascoltare ovviamente agli ascoltatori tu rimani in linea perché poi torniamo resta lì non ci scappare io rimango qui bravo bravo perché una volta c'erano anche le introduzioni c'erano anche le introduzioni scrivi le canzoni d'amore